volete tenere nuova sempre la vostra frigidice ad aria senza che si rovina all'interno benissimo dovete acquistare questi prodotti qua o un tappetino o meglio o una carta forno per frigidrice sia rotonda che quadrata io tra le due ho scelto questa qui rotonda ve la faccio vedere già l'ho posizionata nel cestello eccola qua però nello stesso tempo se vogliamo anche esagerare possiamo acquistare i tappetini per la frigidice ad aria questi qui sono resistenti al calore ce ne sono due nella confezione possiamo tranquillamente acquistare e metterle all'interno in modo da tenere sempre nuova la nostra frigidice